Ciao a tutti, benvenuti a Balconi TV Schio, io sono Valeria e oggi qui con noi Dario Valle con il brano Wood and Tools. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Bravo Dario, una domanda, perché la musica irlandese? Musica irlandese per la ritmica, soprattutto i sei ottavi che mi piacciono un sacco e poi per le melodie in tono maggiore, quindi molto allegre, felici e poi l'Irlanda che mi sta nel cuore proprio. Ci credo, grazie! Un caro saluto da Balconi TV Schio!